weee non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONI DAIE e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono XIUDER e ragazzi sfide spray bisogna utilizzare lo spray su tre diverse stazioni di servizio i distributori di benzina in poche parole il primo davanti a noi ragazzi dove c'è il puntino a parco pacifico lo potete tranquillamente raggiungere e utilizzare lo spray il secondo qua sotto quindi basta andare dritti fino a qua e lo utilizzate e il terzo ragazzi molto semplicemente si trova al campo da calcio a 5 quindi una cosa veramente semplicissima basta solo andare per questa strada e in questo modo ragazzi riuscirete molto facilmente a completare anche questa sfida io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 ciao